Anticipazioni, Endless Love. Ci sarà un colpo di scena. Nihan verrà rapita per vendetta. Ecco cosa accadrà. Kemal conduce Nihan in un luogo segreto e le rivela il suo amore. Tuttavia, le chiarisce che non desidera una relazione clandestina. Vildan e Onden organizzano una festa per celebrare il matrimonio di Ozan e Zeynep. Emir ha perso fiducia in Tufan e decide di far sorvegliare Kemal da Tariq. Nel frattempo, Kemal avverte il fratello di non fidarsi del suo capo. Ma Tariq non vuole ascoltare. Zeynep sfida Emir, minacciando di rivelare a Nihan della loro relazione se lui divulgherà le loro foto compromettenti. Emir, furioso, risponde con minacce. Kemal e Nihan hanno un altro litigio, interrotto da una chiamata di Asu. Kemal deve andarsene immediatamente, lasciando Nihan gelosa, da sola. Da Asu c'è anche Akki, ormai vicino alla morte. Akki chiede a Kemal di sposare sua nipote. Kemal vorrebbe esaudire il desiderio, ma spiega che non può farlo. Nel frattempo, Emir è in preda al panico per la scomparsa di Nihan e ha allertato tutta la famiglia. Riceve poi una telefonata. Tanner ha rapito Nihan e minaccia di liberarla solo se Emir lo aiuterà a uscire di prigione. Emir accetta il ricatto. Anche Kemal viene a sapere del rapimento e si mette sulle tracce di Nihan. Nel messaggio lasciato in segreteria, Nihan fornisce dettagli che permettono a Kemal di capire che uno dei rapitori è un uomo di Kor Iskender, detenuto con Taner e Nekmi. Kemal chiede aiuto a Nekmi per localizzare Nihan. Onder e Leila chiariscono le loro incomprensioni. Dopo essere stata rapita, Nihan viene rinchiusa in un magazzino abbandonato appartenente a Iskender. Taner, deciso a vendicarsi di Emir, pianifica di uccidere Nihan e incastrare Emir, esattamente come Emir ha fatto con lui. Tutti sono alla ricerca di Nihan, incluso Kemal. Quando Nihan finalmente ritorna a casa, accusa Emir di aver ucciso Karen. Emir si difende e scarica la colpa su Tarik. Kemal è convinto che Tarik non sia l'assassino di Karen. Nel frattempo, Nihan va a confrontarsi con il presunto colpevole. Tarik le confessa di non aver ucciso nessuno. Zeynep rivela a Onder di essere a conoscenza di un grande segreto di famiglia riguardante il matrimonio tra Nihan ed Emir. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il Continuo e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!